È stata una pattuglia delle fiamme gialle di Civita Castellane, in servizio di perlustrazione sul territorio comunale, a sorprendere l'uomo mentre stava depositando su un terreno una vecchia lavatrice accanto a una distesa di ben 166 elettrodomestici dismessi. Oltre ai rottami di forni e lavatrici usate, sull'area erano accatastati anche ulteriori mille chili di rifiuti metallici e plastici, per un totale di 11.000 chili di rifiuti di vario genere, ammassati abusivamente. Per l'uomo, oltre alla denuncia alla Procura della Repubblica per il reato di attività di gestione non autorizzata di rifiuti, è scattato l'obbligo di rispettare le prescrizioni atte allo smaltimento dei rifiuti secondo i crismi di legge. Tuttavia sono in corso ulteriori indagini, sia per ricostruire la filiera da cui provenivano gli elettrodomestici, sia per individuare eventuali altri soggetti coinvolti in questo illecito.